che cosa si potevano dire il mio editore youtube a cura di vb don mario si diresse lentamente verso la porta della stanza per andare nel bagno la crisi appena superata gli dettava un vivo desiderio di rimanere solo chi soffriva di crisi di panico alla fine o ne scopriva i motivi superiori o le metteva a dormire con le medicine don mario ricordò di aver letto in una rubrica medica che a boston erano giunti a queste conclusioni aveva la mano sulla maniglia quando nella stanza entrò il segretario di monsignor ernesto e annunciò eminenza il segretario di stato chiama per vienna con l'austria alla svizzera siamo in un mare di guai disse il monsignore e uscì in fretta dalla stanza don mario rimasse solo con il confratello che lo aveva soccorso per primo che cosa si potevano dire il confratello era entrato in convento per avere un lavoro e perché era omosessuale così aveva risolto entrambe le necessità e ogni volta che don mario esternava i suoi dubbi sull'organizzazione il confratello si impennava nella difesa di chi lo aveva accolto se don mario confessava le sue crisi di coscienza agli altri preti in molti si alleavano contro di lui e alla fine tutti convenivano che bastava farsi mantenere dall'organizzazione senza criticarla solo il monaco custode del convento dove era alloggiato gli dava ragione col suo vecchio viso illuminato da un fuoco ardente ma don mario non bastava allora si dirigeva a piedi verso il paese che il convento sovrastava da secoli con la mente in subbuglio senza badare alle macchine che lo sfioravano il cuore gli batteva forze lui giovane prete che portava ogni giorno a spasso la sua sessualità per essere coerente con il giuramento fatto all'organizzazione adesso era impastogliato nei dubbi e non riusciva più a controllare i suoi istinti alcune giovani donne lo guardavano e don mario ne provava desiderio molto desiderio una sera dopo un giorno di digiuno don mario aveva posato la mano sul messale che aveva accarezzato dopo avere toccato il crocifisso e un'icona della madonna aveva sussurrato un canto gregoriano ricordo del noviziato eppure non era stato percorso da una fede rinnovata aveva emesso un leggero sbuffo e si era allontanato dalla stanza grazie a tutti